La sonda Voyager 2 passerà a 4,3 anni luce da Sirio, la stella del cane, tra circa 196.000 anni. Adam, io starei pranzando. Parla normale. Scusa, vedi il sistema dello Star Trekker? No. La pausa pranzo è fatta così. Una donna si è trasferita al 3A. Oh, bene. Così si parla in pausa pranzo. Fox Searchlight Pictures presenta... Beth Buckwald. Adam, la storia di due sconosciuti. Riesci a vedere il cielo da terzo piano? Credo di sì, se le finestre non fossero coperte di fuligine. Uno un po' più strano dell'altra. Adam, che cosa? Mi avevi detto che avevi la fuligine sulle finestre. Adam, dovresti chiamarla invece di presentarti all'improvviso a casa sua. Devo mostrarti una cosa. Vieni, entra. Oh, guarda. Tu eri eccitata? Cosa? Sessualmente. Perché io lo ero e... Grazie. Io ora dovrei proprio andare. Perché ti ho detto che ero sessualmente eccitata. No, 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 no. Beh... Già. Io ho questa cosa che si chiama sindrome di Asperger. Oh. Albert Einstein, Thomas Jefferson, Mozart... Avevano l'Asperger? È probabile. Dovete vedere la bambina. Ti andrebbe di vedere il video? No, ti ringrazio. Adam, non fa per te. Io non mi sposto. È una cosa difficile. Ma sai quello che vuoi. È dolce e interessante. Lui vive in un altro mondo. Non devi accettare questo tipo di compromesso. Non prendi tu le mie decisioni. Avete fatto un accordo. Vedo che sei molto preoccupata, ma non saprei che cosa fare. Mi puoi abbracciare? Sì, certo. Adam, io vorrei che tu mi abbracciassi. Sono cioccolatini. Io non sono Forrest Gump, lo sai.